Ciao amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi volevo mostrare la ultima uscita della O-Lite, la O-Lanther Music, una lanterna davvero unica. Se vi interessa rimanete con me nel corso del video. Andiamo! Andiamo a fare l'unboxing. Ecco, questa è la sua confezione. Ragazzi, eccola qui. Guardate che bella. Ok? Che cos'è? È una lanterna, in pratica, in stile vintage, però ha incorporato due tipi di illuminazione, luce calda e luce fredda. In più, qua abbiamo, ragazzi, degli autoparlanti Bluetooth, quindi possiamo collegarli a un telefono o altre cose e possiamo ascoltare la musica. Quindi è veramente una cosa fantastica. La possibilità di avere luce in due modalità e più la possibilità di ascoltare la musica che ci piace. Ma ora andiamo a vedere nei dettagli tutta la lampada. Allora, amici, è fatta di metallo e plastica. Comunque, materiale molto resistente. Si vede che è veramente di ottima fattura. Non ci si poteva aspettare di meno dalla casa O-Lite, comunque. Allora, sotto troviamo l'attacco per i tripodi, ok? La classica per le fotocamere, diciamo. Quindi lo possiamo mettere su un tripode o su altre cose. È rivestita in gomma antiscivolo, la parte di sotto, in modo che è anche bagnato il tavolo, questa qua non si muove, è veramente tanta roba. Qui abbiamo due autoparlanti incorporati che espandono praticamente la musica a 360 gradi. E qui abbiamo praticamente l'ingresso e l'uscita per caricare sia la lampada oppure utilizzare l'uscita come powerbank. In pratica possiamo ricaricare i dispositivi come un telefono o un tablet con questa uscita qua USB. Ve la faccio vedere da più vicino, eccola qua, ok? Ricarica della lanterna e la ricarica invece USB per i cellulari, eccola qua. È impermeabile, con un grado di impermeabilità di IPX5, quindi resistente agli schizzi, ovviamente non alle immersioni. Poi passiamo alla lampada. Qui dove esce la luce, in pratica sotto abbiamo dei led bianchi e dei filamenti arancioni che fanno la luce calda. Il tutto protetto da vetro e una griglia di protezione, ok? Un paraschizzi e qui abbiamo un gancio, ve lo faccio vedere così. Qui abbiamo un gancio per appenderla e è anche molto comodo da portare, ok? Come potete vedere. Andiamo sopra. Sopra è molto interessante perché abbiamo un sacco di comandi, come possiamo vedere, vedete? Ok? Allora, pulsante per la connessione ad altre lampade, in caso se abbiamo varie lampade e vogliamo collegarle fra di loro, per la musica, possiamo collegarle tramite questo pulsantino qua. Più e meno del volume, ok? Tassini più e meno. Aggancio bluetooth per i nostri dispositivi, play e pausa e qui abbiamo l'accensione della lampada. Qui abbiamo un dimmer per regolare l'intensità e dimmerare fra un tipo di luce e l'altra, che dopo andremo a vedere. Per accenderla, ragazzi, è interessante perché adesso è in modalità blocco e lo vedete perché si accende un cerchiolino rosso, che si accende se lo muoviamo in pratica, vedete? Rimane acceso 5 secondi e dopo che si spegne automaticamente. Questo ci fa capire che la torcia, anzi la lanterna, è in modalità blocco, ossia non si accende involontariamente, anche premendo qualche tasto non si accende. Per accenderla dobbiamo sbloccarla e dobbiamo tenere premuto il tasto on per qualche secondo, ok? Un paio di secondi e vedrete che la lanterna si accenderà e si illuminerà anche il dimmer sopra, il cerchietto, di verde, ok? Vedete? Per spegnerla ci basta o premere la manopola, cioè il dimmer, e si spegnerà, oppure premere un click sul on, ok? Facciamo una prova. Teniamo premuto, vedete? Si è spenta, ok? Per accenderla un click, per spegnerla anche di qua un altro click, vedete? Per bloccarla, una volta che è spenta, basta premere il pulsante on, tenerlo premuto per qualche secondo, e vedrete che si accende il rosso, il cerchiolino rosso. Qua ci fa capire che ormai è spenta, vedete? Vedete? Non si accende, ok? Quando è accesa ha dei sensori di vibrazione, quindi dopo 5 secondi tutti i pulsantini che si illuminano, ok? Si spegneranno, vediamo un po', eccolo qua, vedete? Ora, se siamo al buio e vogliamo trovare i tastini, ci basterà solamente toccare la lanterna, i pulsantini come vedete si illuminano, ok? E quindi possiamo ricercare tutti i comandi senza nessun problema, davvero fantastica. Quando è attiva, il cerchietto intorno al dimmer si illumina e ci indica anche la carica della batteria. Faccio vedere. Ora, se fosse verde, la carica sarebbe tra i 30 e il 100%. Se invece, come in questo caso, che vediamo che è rosso, si illumina di rosso, quindi è tra il 5% e il 30% di batteria. Se invece diventa rosso lampeggiante, vuol dire che sta intorno al 5% o meno. Allora, andiamo a parlare del peso e delle dimensioni. Peso 980 grammi, altezza 23 centimetri, non contando la maniglia d'aggancio, ok? E larghezza sono 12 centimetri e 4. All'interno viene anche un cavettino con due maschi tipo C, ok? Batteria integrata da 11.200 mAh, quindi bella grossa. Come ho già detto prima, ci sono due attuparlanti integrati da 12 W. Ma ora andiamola a provare al buio, sia le casse che la luce. Vediamo come si comporta. Ecco amici, vediamo tutti gli interruttori luminosi. Ora accendiamo la luce. Et voilà. Così è luce calda, al minimo. Però con il dimmer sopra, se vogliamo, possiamo aumentare, mano a mano. Vedete? Mamma mia! Fa veramente tanta luce. Così è al massimo, ok? Guardate che luce che fa, ragazzi. Veramente illumina giorno, nonostante che la luce è calda, eh? E poi crea questa atmosfera bellissima, perché se non la alziamo al massimo, la lasciamo tipo, ecco, luce lanterna. È veramente bella, ragazzi. Fa un'atmosfera incredibile. Se continuiamo a girare il dimmer, passiamo da luce calda a luce fredda. Eccola qua. Vedete? In questo modo. Luce fredda. Al minimo. E anche questa si può aumentare sempre con il dimmer. Aumentando, aumentando, fino al massimo. Ecco qua. Guardate che luce che fa. È veramente forte, eh? La luce bianca, per fare i lavori, è anche meglio, perché si riesce a vedere meglio tutto quanto. Però la luce calda fa sicuramente più atmosfera. Allora, amici. Nella modalità luce calda, al minimo, quindi sono 10 lumen, e così dura 110 ore, ragazzi. Ok? Poi, ovviamente, aumentando man mano, e portandola al massimo, sempre luce calda, che sarebbero 130 lumen, e dura 13 ore, comunque, anche al massimo. Ok? Poi passiamo a luce bianca, che al minimo sono 130 lumen, e dura ben 17 ore. Ok? Poi, se aumentiamo anche la luce bianca, al massimo, che sono 300 lumen, la durata è di 11 ore. Ora, passiamo alla musica. Vediamo un po' come si comporta anche con la musica. Allora, amici. Io attivo il bluetooth, quindi sopra il simbolino bluetooth. Basta un click. Ecco. Ora, vado col bluetooth del telefono, e associo. Questo bip ci fa capire che già è connesso al dispositivo. Ora, ci basta solamente scegliere una musica, e vedere come si sente. È bella forte! Posso regolare il volume stesso da qua, oppure dal cellulare. Ok? Sentite come si sente bella forte. E al massimo. Fantastica, ragazzi. Che dire? Mostruosa! Lanterna e musica al contempo. E anche in casa fa una bellissima atmosfera. È veramente un oggetto di design, anche per l'interno di casa. Che dire, amici? Le mie impressioni. È da un po' che ce l'ho, e la sto provando. E devo dire, ragazzi, che è fantastica. È unica nel suo genere. Anche perché dà la possibilità di ascoltare la musica preferita, e avere questa luce calda che fa un'atmosfera bellissima. Quindi sia la luce che la musica insieme creano un ambiente fantastico, specialmente se siamo con i nostri amici o con la nostra compagna. E devo dire che è un oggettino veramente unico, anche bello da vedere. Che dire, non ci si aspettava niente di meno dall'Aolight. Ok? Materiali molto robusti, di qualità, e comunque l'Aolight è una garanzia sotto questo aspetto. E in più, amici, in questo periodo ci sono grandi sconti sul sito dell'Aolight, non solo su questa, ma su tanti altri prodotti. Su questa in particolare c'è il 25% di sconto, amici. Ok? Sì, vi interessa. In più, se vi iscrivete al sito e utilizzate i link in descrizione, avrete in omaggio la i3 EOS. Ok? Una piccola torcettina veramente carina, da poter mettere o nell'EDC oppure anche nelle nostre chiavi. Ok? Sempre di emergenza. Veramente carina, veramente piccola. Io comunque vi lascio tutto in descrizione. Ringrazio l'Aolight di avermi mandato questo splendido prodotto. Vi ringrazio anche a voi per la visione. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi possa essere utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao amici! Per finire. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie.